HUA HUCHIGAHAMZIO salve a tutti wachigabari e bentornati sul The Cartoon Show 2 manca poco alla conclusione di questa serie e oggi vi parlo di YIN YANG YO 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 Ok questo cartonimato che ormai molta gente non ne parla più forse è addirittura dimenticato non lo so è nato nel 2006 è concluso nel 2009 ha in tutto due stagioni è stato creato da Bob Bowley ed è un cartonimato canadese e americano ok di che cosa parla YIN YANG YANG YO Allora la storia narra le avventure o disavventure un po' problematiche di due conigli la femmina è rosa e il maschio è blu azzurro questi due conigli vogliono diventare dei grandi maestri dei wufu knights cioè dei valorosi paladini della pace eccellenti nelle pratiche di arti marziali e nella telepatia Però questi due conigli anche sono fratelli si odiano molto e loro sono gli allievi del grande maestro YO un vecchio panda che è abbastanza simpatico Diciamo che questi tre sono i protagonisti che in tutti gli episodi affrontano varie avventure Parliamo adesso dei personaggi YIN è la femmina coniglietta rosa lei ha il potere della magia telepatia lancia i raggi molto molto bella è un personaggio che mi è sempre piaciuto me lo ricordo Io YIN e YANG io lo guardavo mi sembra o su Boeing o su K2 o un altro canale televisivo non mi ricordo vabbè Poi abbiamo YANG Allora YANG ok lui è molto bravo nel corpo a corpo usa delle armi spade boomerang Ma il problema di YANG me lo ricordo in ogni scena grida già YANG parla così Oh YIN vieni forza dobbiamo combattere oh Ok il maestro YO beh sì lui praticamente per tutti gli episodi lo vedi seduto sulla poltrona a guardare la tv Oppure a mangiare qualcosa a dormire ma in realtà YO è fortissimo è molto potente lui Però non è che si vede sempre tanto in azione da quello che mi ricordo ma comunque vabbè In tutti gli episodi di YIN e YANG e poco YO Diciamo che i personaggi devono affrontare delle minacce dei cattivi dei pericoli Ma ogni volta si basa soprattutto sul rapporto di questi due conigli YIN e YANG Tra i due sinceramente prefisco di più YIN YANG dopo un po' rompe le scatole ecco lo dico In realtà questo cartone ha nel suo interno tantissimi villains ma veramente tanti tanti Solo che non sono mai stati così tanto importanti anzi la maggior parte dei cattivi sono un po' piatti Scialli Uno dei più famosi è lo scerofaggio Carl Poi c'era un episodio dove a causa dei problemi e l'odio di YIN e YANG Nasce un altro coniglio che sembra tipo Yarg e qualcosa Poi di personaggi secondari c'è questo pollo qui che si chiama Coop Che ha gli occhiali un po' balbuziente che comunque inizio a essere un personaggio inute ma poi diventa molto interessante E poi abbiamo Lina Lina è questa miglior amica di YIN che YANG è innamorato di lei Non mi ricordo di niente di lei Ok va bene Ragazzi diciamo la verità YING e YANG io anche se la sigla me la ricordo era pure bella Però era solamente in inglese Alla fine riguardando gli episodi Eh devo ammettere che non è così tanto grandioso eh Mi piaceva all'epoca ma se proprio rivedete qualche puntata Notate che è un po' stupido come cartonemato Ecco ma un'altra cosa che ho scoperto è che questo cartone lo trasmettevano anche su Toon Disney Disney XD Quindi è anche della Disney YING YANG yo Non ne ho idea ragazzi seriamente Però vabbè Questa è la mia personale recensione Un cartonemato che merita di essere rivisto riguardato Mi spiace che ormai non è più famoso Poi non credo anche che hanno fatto dei giocatori di YING YANG yo E quindi noi ci vediamo alla prossima YING YANG yo